Il solito video da Paolo Bruschi da Sansepolcro dopo la partita vinta 3 a 0 dalla Juve con il Chievo. Juve che è un po' faticato, subito in vantaggio grazie all'autogol. Un po' di fatica poi è entrato lui, è entrato Dybala, è entrato lui ed io mi annoiavo, mi annoiavo a vedere questo Juventus Chievo ma poi è entrato lui e mi sono divertito, mi sono divertito un mondo, un mondo. E ora pensiamo al Barcellona, pensiamo al Barcellona partita difficile, bene anche Bernardeschi quando è entrato, bene la difesa, bene Shesny, bene un po' meno la Grascosta, mi è piaciuto un po' anche Asamoah e anche Licksteiner ma comunque quello che mi è piaciuto di più. E' Paolo Dybala, è Paolo Dybala, un fenomeno, un fenomeno secondo me è superiore a Neymar, secondo me è superiore a Neymar. Un saluto da Paolo Bruschi da Sansepolcro e al prossimo video, al prossimo video dopo Barcellona Juventus.